Andrà a barbiccio, andrà a barbiccio Molto bene, la sensazione è che il quattro a buio sia totale In realtà oggi stiamo proponendo un gruppo che, insomma, per miliardi di motivi sono amanti dello spettacolo e declinano il demenziale, hanno molto chiaro certi concetti, ma sono molto bravi come musicisti Loro sono il sapone intimo, yeah yeah, eccoli qua Senti, la dura vita del musicista, qua entro adesso, è proprio quando ci si impone di andare in un locale e proporre la propria musica No, lo dico perché molto spesso il gestore del locale, o comunque l'impresario, è quello che chiede quanto pubblico fai o quanto seguito hai, prima ancora di chiederti cosa fai Quando poi voi avete l'aggravante che gestite solo musica vostra, lì immagino che ci siano dei limiti di riflessione Esattamente, parte tutto con quanta gente portate Certo Dovrebbe essere compito, noi ci mettiamo lo show Bravo Il locale ci mette la gente, il bere, il mangiare, anche qualcosa E invece poi c'è anche che i nostri amici dopo dieci anni sono anche un po' stancati Sì, perché c'è anche questo, hai toccato un tasto che è verissimo Cioè, quando una band parte, soprattutto quando incomincia a fare musica e quindi deve farsi largo in mezzo a tutti Andare nei locali, portare la demo, magari spesso e volentieri non vengono neanche pagati Quindi giusto per andare a fare musica E subito il primo aiuto lo si chiede a fidanzate, parenti, amici, la zia Allora le prime serate, tutto sommato, della gente ne fai Perché la prima volta che vengono dici, caspita, e ti richiamano Il problema è che questi qua non è che vengono per grazia ricevute, però a un certo punto c'hanno pure altro da fare Perché poi lo show quello è E quindi il pubblico scema, se non lo guadagni, poi nell'andirivieni delle serate Però voi nelle serate mettete anche delle cover oppure gestite tutta la serata come musica vostra Poca roba, ne avremmo fatte una o due Di cui una appunto degli schianto, se le sbarbe Ah ok, perfetto No, perché ho sentito prima che come slash avete fatto anche un mesciappone dentro Perché c'era un pezzo arcinotto No, 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 infatti questo è Plagio Ebbè, esistono dei posti dove è meglio per voi Cioè voi siete Andrea Bardi Tu va di tuoi interessi Ma glielo devo chiedere, scuso Agli artisti qua No, dicevo No, questi si spostano, si muovono No, dicevo Esistono dei posti tipo Più outdoor, indoor Sì, posti con dei giovani Con tanti Cioè voi siete più Vi trovate meglio quando ci sono gli spettacoli Nella pubblica piazza Oppure è il locale forse Dove ci fanno suonare Tu dici anche se mi chiamano un ascensore io vado Va benissimo Però allo stadio è più figo Quella volta che abbiamo suonato allo stadio E c'è stata un sacco di gente Caspita, beh certo Che partita era? Sassuolo Ah ecco, ok Però mica adesso Anni fa No, però posso dire Loro fanno Sassuolo Reggiana Loro però Beh, che comunque È un derby Che comunque è un derby No, però devo dire Che loro sono una delle poche società di serie A e B Che gestiscono questa cosa E danno spazio alla musica tra il primo e il secondo tempo Cosa che fanno in altri stati europei Però in Italia C'è un po' di reticentro Perché il calcio è considerato una cosa sacra Quindi Il gruppo emergente Che tra il primo e il secondo tempo va a suonare È cosa rara Quindi insomma bisogna Quanto meno fare un plauso Alla società Che dà la possibilità di fare questa cosa L'altro stato che lo fa È un NFL Con il football americano Certo, bravissimo Esatto Negli Stati Uniti E che ci mettono dentro un sacco di cose Eh ma è una concezione di spettacolo ancora più alta Allora Gli amici si compiacciono Perché ovviamente Il percussionista batterista Ne ha azzeccato uno Negli ultimi tre mesi Quindi Di questo Ma Ho voglia di sentirvi suonare No perché ho i peli che mi proteggono Eh lo so Lo so Però può arriverà anche una sorpresa lì Allora Vestito blu è il prossimo pezzo Di cosa parla? Posso togliermi la maschera? Certo Come vuoi Puoi fare quello che vuoi Che ho caldo Eh certo Negli occhi tra l'altro Che è sinonimo di febbre No Dicevo Vestito blu Di cosa parla? Parla Di un ragazzo No No Di una ragazza Di una ragazza Di un ragazzo Che rompe il coglione Un po' rompino Ah una ragazza Che rompe Si un po' Hai capito Hai vinto anche l'ultimo dei belli Anche perché il pisto un po' bristolato Ti fa abbastanza originale L'armatura Sull'armatura Brava Quindi Vestito blu Parla Di una ragazza Diciamo Un po' troppo invadente No Una ragazza che costringe lui A girare con questo vestito blu Ah Vestito blu Vedi che loro Poi li vedi così Ma toccano dei temi Che sono di un'attualità Di una realtà pazzesca Ci sono effettivamente Hai lavato la macchina di sabato Hai il vestito Mettiti la giacca Il vestito blu Quando vieni a mangiare a casa I miei genitori Io non l'avevo mai pensato Ci sono queste cose qui Poi arriviamo anche Aprimi la portiera E poi a un certo punto Vola di tutto Però insomma Per una serie di motivi Questo è Vestito blu Questo riguarda E di sapone vittimo Ce l'ascoltiamo chiaramente Tutta dal vivo Qui allo show Aller Ho cambiato Che di natura Comportamento E l'andatura Striscio da te In ogni momento Scusami amore Non me ne rendo conto Tu non sei mai soddisfatta Ogni mio impegno È una cagata E non ti piace Neanche come mi vesto Ma diamo troppo Ed è per questo Blu Mi sono comprato Un vestito blu Blu Solo per Mi accetti di più Blu Mi sono comprato Un vestito blu Blu Solo per Mi accetti di più Scusami amore Scusami amore Sono qui ti aspetto Da cinque ore Nel tuo viso c'è solo Disprezzo 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 Scusami amore Non ce la faccio Più Mi sono comprato Un vestito blu Tu Solo per Piacerti di più Nel tuo viso C'è solo disprezzo Scusami amore Scusami amore Hai rotto il beat Mi so che ho comprato Una bambola Gompiabile Wow Hai capito Con anche l'autocensura Vi ringrazio per questo Anche se il concetto Era molto chiaro E devo dire che Come si dice Quando c'è voce C'è voce Perché poi in realtà Questo è Senti ma è successo Realmente a qualcuno Di voi quattro Questa cosa Lo dico perché Normalmente Quando si canta Questa roba Due su quattro E tanta roba Quindi chi l'ha scritta Questa qua L'ho scritta io L'hai scritta tu Ti è capitato Pensando a loro Chi è che scrive Di solito qui Cioè siete Fatti un lavoro corale O è lui che Io sì Butto giù Tu fai i testi Sì L'impronta Poi arrangiamo tutti assieme Ok Per la maggior parte Poi anche altri No però è interessante Questa versione Anche goliardica Però insomma Tutto sommato È vero Insomma Tenevoce Succede Che A voi Bravi Bene Allora ho un po' Di appuntamenti da dare Compreso quello di stasera Ma anche uno che riguarda Un live dei ragazzi Quindi Sei voglia Sei tempo Sei voglia Sei tempo Molto bene Allora ringraziamo Gli amici dell'Arci Che vogliono vedere Il loro sito www.arcimodena.org Eccolo qua Ci ricordano Che al cinema Raffaello Della città di Modena Bravo Per la rassegna Cinemamme Alle 15.30 Oggi proiezione del film Ho ucciso Napoleone Seguire si parla di morti bianchi In età pediatrica Con la Croce Rossa Sempre Raffaello Per la rassegna Pomeriggio al cinema Proiezione del film Un piccione seduto sul ramo Riflette sull'esistenza Seguire si parla Di chiamata Di emergenza Con la Croce Rossa Questa sera Alla polisportiva Maranello Maranello In provincia di Modena Bravo Alle 20.30 Serata musicale Con Venturi e Lucchi Vi ricordo domani Giovedì Alla polisportiva Gino Nasi Della città di Modena Si balla con Roberta Cappelletti Nonostante la provincia Voglia i tortellini Ma lei è veramente brava E alla polisportiva San D'Amazon In provincia di Modena Alle 20.30 Sempre hip hop E si parla di Neorealismo italiano Quindi E quindi L'appuntamento per questa sera In televisione Qui su TRC A partire dalle 21.15 Saremo insieme a Tony Sant'Agata Puntata esclusiva Ci racconterà un sacco di cose Canterà chitarre voce Ma situazioni incredibili Tipo l'umaritiello Oppure Quanto è bello Il primo amore L'umaritiello E il secondo è più bello ancora Insomma guarda Ce ne sono Questa sera Ci divertiamo Alla grande Ma vi ricordo anche Quello che è un appuntamento Sul live Dei miei amici Sapone Intimo Saranno Il 7 Quindi questa settimana Al locale Perla Verde Di Savignano Sul Panaro In provincia di Modena Bravo Con un live Chiaramente Tutto esclusivo Ed integrale Molto bene Un bel applauso A Punta Mont Bene È il mio compleanno Il 7 marzo Quindi auguri No non si fa gli auguri Prima Vero No Ti interessa No Ah quindi Mettiamolo giù così Cioè è un concerto Ma doppia versione Per andare Perché ci sono anche C'è una festa Quindi due motivi Esatto Faccio 18 anni 18 anni Tra l'altro Per coloro Sì no no Perché lui è monocromatico Lui fa 18 anni per colore In realtà Nel 279 Se voi andate a comporre Chiaramente La parte cromatica Anche la Dio al celibato Tutto fatto Ci mettete pure Due a tre Di una comunione E mi auguro di no Fate gli scongiurre Un'estremunzione Poi avete fatto tutto Dal punto di vista Di Ma che è un musoleo 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 Ti voglio sentire cantare C'è un petto Ok Il nome è spettacolare Però se voi legge Capite il testo In realtà Ha 10.000 sfaccettature Si chiama Erpes Ok Bene Qui Chi vi parla Della di la scritta C'è Erpes Inteso come tale Oppure si può intendere Anche come Magari non so Altra roba Questa Non è proprio autobiografica No Ma parla di una situazione A cui spesso Ci si rapporta Durante Dei sabati sera Oscuri Ti ricordi solo Che aveva l'Erpes Ah ok L'abbiale 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 Certo Ecco Quindi ci siamo Immaginati Questa storia Di questa tipa X Che lei All'weekend Gli viene l'Erpes E non sa come fare Solo nel weekend Certo Non l'abbiamo mai Certo Non l'abbiamo mai E' lo stress Della settimana Accumulato Che al sabato sera Regala ai maschi Della provincia Oddio Non che vedo più Non che vedo più Quindi è roba Diciamo geograficamente Localizzata Molto beccone Modena Ok Li ascoltiamo Tutto dal vivo Qui allo show Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Giovedì mattina Mi sveglio Mi sveglio pronto Dall'improvviso Esplode sull'improvviso Esplode sul tuo vizio Odio tutti quanti Non so come fare Non so come fare Con questo mostro in faccia Faccio vomitare Ritorno dall'improvviso L'improvviso Le spiego Le spiego qual'è il problema Io devo farmi baciare Fino a tutti Fino a tutti Fino a sabato sera Ma all'improvviso Un arco è sul tuo viso All'improvviso Esplode sul tuo viso E nessuno ti bacerà E nessuno ti bacerà Ma all'improvviso Un arco è sul tuo viso Ma all'improvviso Ma all'improvviso Esplode sul tuo viso Ma all'improvviso Un arco è sul tuo viso Ma all'improvviso All'improvviso Un arco è sul tuo viso Ma all'improvviso All'improvviso, festeggia sul tuo viso e nessuno ti imbacerà. E nessuno ti imbacerà. Hai capito, eh? Poverazza, però, eh? No, dai, dai, diamone una chance. Magari nel nuovo lavoro, insomma, fatelo un pezzo che magari potrebbe essere così a salvezza di questa ragazza, eh? Costruitelo. Allora, bene, attenzione, c'è... cosa c'è? La città lì. Ecco, va bene, va bene, ci cuciniamo dei time, poi torniamo qua. Grazie. Grazie.